Ben trovati e bentrovate dal vostro Andrea Cartotto. Parlo ancora di La Digital, lo pronuncio alla francese perché è un insieme di applicazioni online di appunto derivazione francese che trovate già trattato diffusamente qui sul mio canale. Se cliccate su playlist c'è proprio una rubrica con le diverse web app utili per la didattica e non solo. Veniamo ad una di quelle davvero più spendibili, DigiView. Come arriviamo a DigiView? Andiamo con un qualsiasi browser, guardate la barra degli indirizzi, su ladigitale.dev.it per avere già la home page localizzata in lingua italiana, scorrendo con pazienza quasi verso il fondo della home page troveremo DigiView. Il commento è già esaustivo. È una web app online rapidissima che ci consente di ripulire un qualsiasi link video proveniente da YouTube e condividerlo per la didattica senza distrazioni. Come utilizziamo DigiView? Clicchiamo su USA, breve caricamento, una interfaccia, una schermata pulita e semplice. Campo bianco all'interno del quale incollare l'URL di provenienza del video, l'indirizzo del video stesso. Eccolo qui. Ho preso ad esempio dal mio canale un videocorso su Coggle, una efficace app per creare e far creare mappe mentali ai nostri alunni ed alunne. Vado su Condividi, questo è il pulsante corretto da utilizzare per estrapolare un URL da un video. Clicco copia, torno semplicemente navigando a schede a DigiView, clicco nel campo bianco, tasto sinistro, poi clicca tasto destro del mio mouse e ancora tasto sinistro sul comando incolla. Il tasto blu è l'unico che si può utilizzare, quindi anche se troviamo valide, sappiamo che è un ok. Possiamo, cosa molto interessante, attribuire al nostro riquadro video che sarà un titolo, in questo caso come creare mappe mentali chiare, interattive, eccetera, eccetera. E in forma facoltativa possiamo anche inserire un campo di testo descrittivo. Pensate dunque a un video di storia, di geografia, di scienze, che possiamo in qualche maniera presentare con un piccolo cappellino introduttivo. Diventa quindi DigiView uno strumento utile anche per proporre una lezione flipped, una lezione cosiddetta capovolta. Lascio un attimo da parte il testo che appunto è facoltativo e vi faccio notare che occorrerà sempre riportare, allora naturalmente, il minutaggio iniziale e il minutaggio finale perché io posso anche mostrare di quel video solo una porzione. A questo punto clicchiamo sul bottone blu, generer, quindi diamo il via all'operazione di pulizia ed ecco qui. Guardate, questo è il riquadro di DigiView che propone il nostro video. Titolo, non abbiamo messo alcun descrittivo in questo caso, niente video suggeriti, niente commenti, nulla che distolga l'attenzione da qui. Sotto, vi faccio anche vedere nella barra di quello che chiamiamo player, il riproduttore di DigiView, ci sono anche degli utilissimi pulsanti come questo a forma diciamo così di indicatore, grafico, orario, ricorda quasi un tachimetro. Vediamo che possiamo ad esempio rallentare la riproduzione del video, funzione utilissima per i nostri alunni BES DSA. Oppure ancora abbiamo pulsanti che ci permettono di gestire ingrandimenti, schermo intero ed altro ancora. Il video a questo punto è pronto, pronto all'uso. Come però ne estrapoliamo il link per condividere? Noi andiamo a selezionare in alto nella nostra barra degli indirizzi il nuovo indirizzo di questo video che non proverrà più da YouTube ma sarà un ladigitale.dev eccetera eccetera. Clicc tasto destro del mouse, clicc tasto sinistro su copia e saremo dunque pronti a condividere su Classroom o su altre destinazioni questo nostro video. Come si presenterà? Guardate, vado a cliccare sui tre pallini di Google Chrome, vado a scegliere nuova finestra di navigazione in incognito, vado a incollare qui nella barra degli indirizzi il risultato finale ed ecco qui. Guardate adesso io vado a cliccare sul tasto nero come abbiamo visto. Su Classroom ovviamente il tutto è ancora più semplificato. Ecco qui, riquadro di riproduzione pulitissimo del video con il tasto play e i pulsanti di gestione, nonché ovviamente un titolo se del caso con un descrittivo di accompagnamento. Digiview è davvero una risorsa utile e penso anche alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria, ma poi possiamo comodamente salire, utilissimo per la secondaria di primo e di secondo grado, perché ci consente anche di proteggere i nostri destinatari da risultati che possiamo definire indesiderati quando invece noi vogliamo che si concentrino solo qui. E allora a voi la prova su strada e un saluto sin d'ora appuntamento al prossimo videocorso. Andrea Cartotto vi saluta, ciao!